Tutto questo non basta e anche l'Europa deve fare la sua parte e per cui io giorno 12 al Consiglio di Giustizia e Affari Interni parlerò con il mio collega Avramopoulos per proporre un daspo europeo e poi mi attiverò per parlare anche con chi in Commissione Europea si occupa di sport per proporlo anche dal lato dello sport. Perché occorre un'attività sinergica tra gli organismi che garantiscono la sicurezza in Europa, quello dei singoli paesi in modo tale che ci sia un daspo europeo.